Se tu tornassi indietro, rifaresti le stesse cose. Mi chiamo Peppe De Vincentis e la carriera mia è cominciata così. Non diciamo bugie, ma omettiamo la parte che fa insospettire il cliente. Si comprava il silenzio, perché se chi lascia fuori diceva, signori carri sono stati truffati, entrano tutti quelli a cui tu avevi venduto quel prodotto. Non c'è nessun concetto. Se tu tornassi, devi portare la gente. Se tu porti la gente, ti metti a bomba. Buon atteggiamento e linguaggio del corpo da organizzazione moralistica. E' un po' che non mi ha dato, mi ha distrutto per la vita. E' un po' da solo, per tutto parte. Non c'è nessun concetto. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. maligolini chi può mai dire un futuro in alto?